Ciao, sono Guido di pasticciotti.it e oggi faremo una rena con frutta e verdura! Serve un piattino, delle uvette, una fetta di ananas, delle meline e un pezzo di peperone. Ah, dimenticavo, serve anche mezzo pomodorino. Grazie a tutti! Grazie a tutti! A presto! A presto! A presto! A presto!